Basta una rete di De Marco a sancire il secondo posto del Francavilla in Sinni e ad inchiodare alla terza piazza il Bitonto. Alessandro Potenza con soli dall'ormai classico 3-5-2 col sempre più sicuro Canizzaro fra i pali, baluardi difensivi Petta, Lanzolla e Biason, in mediana Stasi e Danna cursori di fascia. Al centro lo statuario a Dae col fosforescente Riccardi e l'ubicuo Piarulli, il fantasista tascabile Taurino a servizio di Bomber Santoro. I sinnici del tecnico Molfettese, ex e ultore di giornata, presenta schema tattico speculare con Prisco fra i pali, Ferrante, Russo e Nicolao trio arretrato, centrocampisti esterni Cristallo e Polichetti, interni Melillo, Gance e Pertrucetti. Le punte sono Nole e De Marco. 120 secondi e gli ospiti provano a pungere. Danna sfonda al centro e allarga per Stasi che da ottima posizione calcia fuori. Due minuti Riccardi guizza sulla fascia e cerca Piarulli che stanga da lontano, deviazione e traversa scheggiata. Poco dopo il quarto d'ora ancora il minaccio 11, pesca Petta in aria che spizza alta la sfera. Ma al minuto 18 è il punto che spacca il match. De Marco si destreggia con maestria al limite e Fredda Canizzaro con un diagonale chirurgico. Poco prima della mezza i padroni di casa sfiorano il bis, assist di Nole per l'autore del gol che si divora un'occasione d'oro. Subito dopo sinistro sbirolo dal limite di Bright. Al trentottesimo benefico colpo di De Marco che Canizzaro in tuffo disinnesca. In pieno recupero il tiro di Nole rotola sul fondo e chiude la prima frazione. Allo schiudersi del secondo tempo piazzato di Melillo per Ferrante che inzucca tra le fronde, risposta pugliese con Santoro che scarica per l'ex fermana che insidia pericolosamente le persiane di un'abitazione. Al quinto Stasi scodella da destra la battuta di Danna viene murata dagli avversari. Chance per il pari fallita delle oncelle al minuto 11 con Taurino che imbecca petta, incornata possente e prodigio di Prisco. Al ridosso del quarto d'ora Addai si assopisce colpevolmente nei 16 metri e trebbiano lei che gli aveva fuffato il pallone. Dal dischetto Melillo mira l'angolino ma il guantone miracoloso del portierino panormita respinge tutto, ribattuta di polichette incluse. Il roggito dei leoni è tutto nella testata fuori misura di lattanzia. A nove dallo scadere secondo giallo per l'anzolla che vede rosso e lascia i compagni in dieci. A cinque dal novantesimo manicomio di Russo su un mancino di Richi. Angelillo Nolano non zirla. Nell'extra time il principe del foro Iadaresta non lo è affatto d'area di rigore e sbaglia di testa da pochi passi. Sconfitta dolce amara per gli uomini del patron Francesco Rossiello che chiuderanno la stagione regolare con la Nocerina domenica prossima e affronteranno il Fasano nell'eterno derby della prima gara dei playoff il 25 maggio.